Amici dell'acqua Adesso andremo veramente a entrare nel vivo a raccontarvi le storie di questo fantastico lago Allora amici ci stiamo avvicinando sul luogo dove andremo a scoprire il mistero del villaggio sommerso Ci troviamo esattamente sopra il sito archeologico del vecchio villaggio Pallafitticolo che c'è in questa zona E' possibile vedere dall'esterno, la profondità non è tantissima Però dall'esterno ci sono delle piccole buone di segnalazione subacquee Dei galleggianti semplicissimi che vengono usati dalle reti dei piscatori per segnalare alcuni luoghi Niente di più Caterina, come immagini le persone che vivevano questo lago secoli e secoli fa? Sicuramente erano popolazioni che vivevano grazie all'acqua, grazie alla cultura del lago, alla pesca Quindi vivevano su queste palafitte a stretto contatto con l'ambiente acquatico E avevano sicuramente bisogno proprio per la sopravvivenza, per la loro sussistenza dell'acqua e delle risorse acquati Allora, gli uomini li abbiamo immaginati molto primitivi che vivevano questi luoghi Ma se vogliamo pensare a qualcosa di un po' più mitologico, un po' più fantasioso Ti viene in mente qualche figura, magari mitologica, che potrebbe vivere le acque? Cosa ci racconta la storia di figure mitologiche che vivono le acque? Beh, moltissime culture, anche tuttora viventi, tuttora esistenti Perché non dobbiamo parlare sempre solo di primitivismo Ci sono culture che oggigiorno vivono ancora grazie alle acque nei pressi di fiumi, di laghi, di mari Sicuramente si immaginano degli esseri che hanno una matrice acquatica dei pesci Oppure delle iguane a volte, dei coccodrilli, degli anfibi Ma con delle strutture, delle caratteristiche esagerate Non so, pinne enormi Beh, a proposito proprio del lago di Monate Io ho trovato leggendo questo libro molto interessante di uno studioso varesino Una leggenda proprio che parla del lago di Monate Non ha niente a che fare con le pallafitte Però è carina perché dice che questo lago sarebbe nato per un castigo divino E dice proprio, si tratta della sommersione di un territorio per castigo di Dio Il signorotto locale nega l'acqua, quindi anche qui molto interessante il tema del rifiuto dell'acqua Bene, fondamentale per la vita Ad una giovane che lo ha respinto E allora dal pozzo sgorga una fiumana che sommerge il castello e forma lago Dove il prepotente è confitto, quindi le pallafitte, qualcosa che è legato alla terra, potrebbe tornare Con i piedi nell'inferno e la testa a pelo d'acqua Costretto a bere in continuazione lui che ha negato l'acqua Bene, Michele, tu che sei l'autore del libro Misteri di Varese Riguardo al lago di Monate, che cosa ci puoi dire di più? Ma dunque, riguardo al lago di Monate esiste anche un'altra leggenda Differente da quella che ha raccontato Caterina Si tratterebbe della presenza di un villaggio, di una città In tempi molto remoti, nei tempi indefiniti delle leggende e delle favole Che sarebbe sorta proprio dove oggi c'è il lago di Monate E che sarebbe stata sommersa dalle acque del lago In seguito a una sorta di punizione divina, in questo caso diabolica La leggenda inizia così C'era questo villaggio che sorgeva esattamente dove ora c'è il lago Dove la gente, i cui abitanti erano particolarmente buoni Insomma, gente onesta, brava gente Un giorno presso questo villaggio arrivò uno strano monarca A seguito della sua compagnia di cavalieri, di dame Tutti riccamente vestiti e sfarzosi Che chiesero al signore locale del villaggio Chiesero ospitalità Sapendo che loro erano persone molto buone, molto oneste Che non glielo avrebbero rifiutata Una volta stabilitisi nel villaggio però Cominciarono a dare ricchi ricevimenti, festini Che degenerarono sempre più in feste anche a base di riti orgiastici Insomma si lasciarono andare ogni sorta di peccato Coinvolgendo in queste gesta anche la popolazione locale Quindi in qualche modo corrompendola Quando la corruzione della gente del luogo arrivò a livello massimo Il monarca straniero si rivelò essere il diavolo E per punire la popolazione per questi loro peccati Scatenò una sorta di diluvio che sommersa il villaggio Uccidendo tutti Questa è una leggenda tipica della zona dell'arco prealpino e alpino Che riguarda non solo il lago di Monate Ma anche molti altri laghi Tutti di origine glaciale E questo poi ci può far pensare anche a un'origine intrigante Michele, visto che ci troviamo su queste palafitte Ma la domanda che ti voglio fare Cosa c'entrano queste palafitte con tutto quello che ci hai raccontato adesso? O comunque È un proseguimento di qualche leggenda che tu ci vuoi svelare L'esistenza di queste palafitte? Sì, diciamo che la presenza delle palafitte Ha suggerito una possibile interpretazione della leggenda del villaggio scomparso Ovvero si può ipotizzare che le popolazioni antiche Non quelle dell'antichità, cioè gli edificatori delle palafitte Ma popolazioni, diciamo, intermedie tra noi e loro Ritrovando i resti di questi villaggi, di queste case semidistrutte sott'acqua Potesse aver costruito la leggenda di un villaggio, diciamo, terrestre Sommerso in seguito a qualche alluvione sotto le acque dell'arco Chiaramente non avevano le nostre conoscenze archeologiche Per poter ricostruire l'origine esatta di questi resti Però potrebbe essere questa una delle spiegazioni di la nascita di questo mito Amici dei Guardiani dell'Acqua Torneremo sicuramente sulle rive di questo lago a svelare altre conoscenze Ma quello che ci interessa di più è che con Caterina e con Michele Andremo a conoscere la provincia di Varese anche con altri misteri Caterina e conoscere la provincia di Varese anche conoscere la provincia di Varese anche conoscenze Caterina e conoscere la provincia di Varese anche conoscenze